Tosa Free ora c'è la determina che attende soltanto l'ufficialità. Spetterà all'assessore Mignone, alla parte tecnica espressa dall'architetto Iadi Cicco, rendere il documento pienamente esecutivo, premio assenso del sindaco Mastella che dal canto suo ha sempre caldeggiato la possibilità di concedere parte del solo pubblico dove esercenti che ne facciano richiesta possano allocare tavolini e sedie, ovviamente a distanza di sicurezza. Si tratta della determina dirigenziale di utilizzazione temporanea a scopo gratuito in deroga al regolamento di cui ha la delibera 18 del 31 luglio del 2019 e che invita gli esercenti a presentare l'istanza compilando un apposito modulo e che andrà inviato per via telematica al SUAP del Comune di Benevento. Noi cercheremo in questo modo di anticipare i tempi, in modo tale da far sì che i commercianti possano avere il tempo per produrre quella che poi alla fine è una semplice domanda con annessa una planimetria che deve essere firmata da un tecnico abilitato dove l'esercente deve semplicemente indicare la planimetria nella planimetria deve indicare la posizione dei tavoli, delle sedie abbiamo in verità dato anche una prescrizione, quello di utilizzare un colore per quanto riguarda gli ombrelloni quindi un panna chiaro, un beige chiaro e per quanto invece riguarda gli arredi, tavolini, sedie, piccoli divani, un marrone scuro questo per far sì che la città comunque, nonostante questo momento di crisi mantenga una sua caratteristica di eleganza.